Il COSB è presente in Zimbabwe da più di 30 anni e questo ci ha permesso di rafforzare le relazioni con le energie, le associazioni e le autorità locali ma soprattutto con le comunità. Negli ultimi anni abbiamo realizzato progetti principalmente di emergenza in risposta alla grave siccità che ha colpito il Paese, aggravata da una prolungata crisi finanziaria. Nell'ambito dei progetti di emergenza volti a rafforzare la sicurezza alimentare e la resilienza dei piccoli agricoltori abbiamo realizzato tra l'altro corsi di formazione e strutture per l'accesso all'acqua tra cui pozzi e alimentazione di energia solare. Sempre nell'ambito dei progetti di emergenza abbiamo avviato la formazione di associazioni di produttori agricoli rurali e dal 2018 stiamo rafforzando le associazioni stesse con il miglioramento dell'età nel mercato per garantire la commercializzazione dei prodotti delle associazioni e quindi garantire la sostenibilità economica lungo termine. Per l'accessito anche. Grazie a tutti